Carolina, oggi è un giorno importante, il giorno del tuo primo contratto da professionista. Immaginiamo la felicità e la soddisfazione che stai provando in questo momento. Ce li descrivi? Sì, è molto difficile descrivere le emozioni che provo in questo momento, perché è un sogno che rincorro fin da quando sono piccola. Sicuramente la felicità è tanta, sono molto orgogliosa di questo primo traguardo. Quanto ti rende orgogliosa sapere che la società punta tantissimo su di te? Avere la fiducia della società per me è molto importante e cercherò di ripagare in tutti i modi questa fiducia, dando sempre il meglio di me stessa. Cosa significa per te vestire una maglia importante come quella dell'Inter? Per me giocare in uno dei club migliori d'Europa è una cosa molto importante, mi rende molto orgogliosa, infatti ogni volta che vesto questa maglia cerco sempre di onorarla. Ora, quali sono i tuoi obiettivi da qui ai prossimi anni? Sicuramente il primo obiettivo è migliorare giorno dopo giorno imparando dalle ragazze più grandi di me. Poi un altro obiettivo è vincere uno scudetto con questa maglia e un sogno è un giorno giocare una partita di Champions League con la maglia dell'Inter. Carolina, grazie, bocca al lupo e complimenti. Grazie a voi. Grazie a voi.